Un progetto molto importante che viene presentato oggi e viene illustrato un percorso che è stato fatto con i bambini dell'Istituto Malzone. Un progetto che è nato nelle corde tra noi e Duna di Sale. Noi come casa editrice abbiamo da sempre, da ormai tre anni, pensato di proporre testi alternativi che si occupano di disabilità a vario titolo. Quindi questo progetto ci ha trovati in piena sintonia e abbiamo realizzato quest'albo con i bambini dello Smaldone dove loro hanno costruito la storia e loro poi segnano nel libro. Quindi ci stanno proprio le foto dei bambini che segnano nel libro. Questo libro che presentiamo oggi è il frutto di un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana che ha creduto ancora una volta in uno dei progetti presentati da Duna e è un progetto a cui noi tenevamo veramente moltissimo. Sono già tre anni almeno che lavoriamo con lo Smaldone proponendo laboratori di musicoterapia, insomma cose divertenti per i loro studenti. Quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa insieme a Salerno Alberi con cui lavoriamo insieme a Salerno Letteratura da tanti anni, dall'inizio del 2013 e abbiamo deciso di fare la cosa che metteva insieme le nostre cose comuni, di realizzare questo libro che speriamo sia anche uno strumento per far sì che si possano raccogliere altri fondi a favore dei bambini dello Smaldone sicuramente a cui devolveremo parte del ricavato, ma speriamo che ci faccia da salvadanaio per fare altre cose insieme sullo stesso argomento. Grazie.